La giunta comunale si è espressa favorevolmente. Tra giorni sarà emessa anche l'ordinanza da parte del comandante dei vigili urbani. Parliamo del nuovo dispositivo del traffico per il centro storico, dispositivo che secondo l'assessore a ramo Luciano Leone deve intendersi come sperimentale, ovvero provvisorio. Dopo quanto successo in occasione dell'estate scorsa, con la levata di scudi dei commercianti per alcune modifiche alla circolazione interna, si vogliono evitare contrapposizioni con gli automobilisti, gli operatori economici e i residenti. In pratica cambierà il senso di marcia lungo via Tribunale e via d'Afflitto. Stesso provvedimento per evidenti ragioni di opportunità per via Santo Stefano. Questa strada si potrà imboccare solo da via Covotti. Novità anche per via del riscatto. Sarà transitabile da piazza Duomo e non più da via Nazionale. In effetti si tratta di un ritorno al passato. Cambiamento in vista anche per via Mancini. Resterà transitabile a senso unico a salire da piazza Plebiscito. Doppio senso di circolazione invece a via Castello. Infine via Annunziata potrà essere imboccata solo da via d'Afflitto. Restano confermati gli orari per la chiusura del traffico di alcune strade e per le isole pedonali. Nessun cambiamento infine per via Lusi e per la Tranese Anzani. Prima di partire con questa nuova sperimentazione e la tesi dell'assessore Leone, sono stati ascoltati tutti, soprattutto i commercianti. Qualcuno in realtà ha avanzato qualche perplessità, ma probabilmente solo la sperimentazione sul campo ci potrà dire se si è sbagliato. Tra l'altro il provvedimento coincide con il periodo pasquale, con il sicuro al fluire in città di più persone e quindi anche per meglio valutare l'impatto. Il nuovo dispositivo del traffico non comporta stravolgimenti nella gestione del servizio del trasporto pubblico. I mezzi dell'AMU continueranno ad avere piazza Prebiscito come capolinea e potranno continuare il percorso lungo corso Europa, dove la sosta sarà consentita solo sul lato sinistro a scendere. Qualche accorgimento dovrà ovviamente essere adottato per piazza Sant'Angelo e via Intonti. Le aree per la sosta non sono perfettamente disciplinate. È qui che si registrano spesso abusi da parte degli automobilisti, come pure a Piazza Duomo e via Roma, dove il divieto di sosta viene sistematicamente ignorato. Contemporaneamente parte l'invito ai vigili urbani in attesa di imminenti nuove disposizioni, installazione di parchimetri e passaggio del servizio all'AMU, al controllo dei grattini, sia nei parcheggi a raso che nel silos di Calvario. Il comando vigili, in realtà, per rispondere adeguatamente all'invito della civica amministrazione, avrebbe bisogno di nuove unità. È bloccato, infatti, il concorso per 5 assunzioni a tempo determinato e comincia a preoccupare anche la vetustà del parco auto. Ci sarebbe bisogno di investimenti, ma questo è già un altro discorso e, peraltro, anche complicato.